Il bilancio 2023 della banca è stato estremamente brillante, con un esercizio netto che ha superato i 78 milioni di euro. Questo però per noi non è, non sarà mai un fine, quello dell'esito ultimo del conto economico, ma uno strumento per rendere più solida la nostra banca, per vedere continuare a crescere gli indicatori patrimoniali che ne misurano la solidità. Questo perché Banca d'Alba vuole rilanciare le proprie iniziative, non solo economica finanziaria, ma anche di sostegno sociale al territorio, dando il nostro contributo per il benessere del nostro territorio e della nostra comunità. E quindi la cosa che ci fa più piacere sottolineare sono i mutui alle imprese che abbiamo continuato a derogare anche nel 2023, nella misura di 250 milioni di euro, 1200 piccole e medie imprese, e quindi con una crescita del 20% rispetto al 2022 ed incontro tendenza rispetto a quanto è constatato nel sistema bancario a livello nazionale a condizioni meno onerose. Penso ai 1000 mutui casa, per 115 milioni di euro, che abbiamo erogato anche qua denotando una crescita rispetto a quanto è espresso dalla media del sistema, un più 16%. Penso soprattutto ai 2000 mutui che abbiamo rinegoziato, i mutui passo variabile, per venire incontro alle esigenze del cliente, del socio, della banca, che hanno visto inevitabilmente è aumentare in maniera significativa l'importo della rata a causa del rialzo dei tassi in cui abbiamo assistito. Ecco, rinegoziare 2000 mutui ascoltando le legittime preoccupazioni di una rata che continuate a crescere e che era necessario vedere stabilizzare, quindi allungando la durata dei mutui o convertendo il variabile in fisso, come in termini di tasso, è stato per noi un motivo concreto di ascoltare le loro esigenze e di dare seguito a quello che era delle istanze assolutamente fisiologiche necessarie. Penso anche all'apertura, penso che il prossimo anno, siamo qua a Novara per la conferenza stampa, perché ci saremo presenti nel 2025, a Novara prima e a Vercelli poi, vedendo crescere il numero delle nostre filiali a 76. Nel 2012 erano 56 dei filiali di Banca d'Alba e siamo quindi cresciuti del 36%. Ecco, negli ultimi dieci anni l'istema bancario è decresciuto nella medesima misura, cioè il 36%. Questo vuol dire essere presenti capillarmente sul territorio, vuol dire esprimere un modello di servizio oneroso, ma che è il modo migliore per noi, il modo giusto di fare banca, perché vuol dire relazione col cliente, vuol dire accogliere le sue esigenze e quindi vuol dire esserci in presenza di persona per ascoltare le necessità e dai far di fronte. Per noi sì, è fondamentale, perché comunque sia il nostro modo di lavoro non può prescindere da questo tipo di attività e questo ci onora, perché comunque i dati sono favorevoli, i dati ci danno ragione, anche se naturalmente dobbiamo utilizzare le tecnologie e tutto quanto oramai ci può essere fornito da queste novità legate all'informatica, alle varie tecnologie. Però il rapporto umano, la centralità della persona credo che siano ancora fondamentali, quindi creare questo rapporto che poi si instaura con una fiducia, una fiducia reciproca, credo che sia veramente il modo giusto anche di fare banca, pur, ripeto, con tutti i limiti che i tempi danno. La mutualità è alla base del nostro essere, dell'essere del credo cooperativo, noi siamo una banca nata per la volontà dei nostri soci, proprio per rispondere alle esigenze di servizi bancari, quindi anche dalla concessione del credito, ma dalla tutela del risparmio, quindi anche per quelle famiglie o in piccoli imprenditori che potrebbero essere anche in qualche modo esclusi dai circuiti dei grandi gruppi bancari. Quindi la nostra funzione è proprio quella di supportare l'attività della piccola e media impresa fornendo le risposte più idonee per le specifiche esigenze. E la mutualità meglio viene interpretata proprio tramite l'autonomia delle banche, come Banca d'Alba, che compongono il credo cooperativo nel proprio insieme, in particolare io parlo del gruppo bancario Icrea, che è formato da 116 banche, ognuna delle quali agisce su un territorio molto diverso uno dall'altro, quindi con caratteristiche diverse, quindi con esigenze diverse che noi cerchiamo di supportare al meglio fornendo sia professionalità, servizi adeguati e anche prodotti e soprattutto anche una capacità patrimoniale, mettendo a disposizione il patrimonio dell'intero gruppo, che come ho ricordato in conferenza stampa è addirittura di 13 miliardi di euro.